Una fase nuova che potrebbe spianare la strada a un percorso reale di cambiamento, ma ad ora sono maggiori le pressioni che la giunta regionale deve sopportare. Critiche più o meno roventi, strali, impietosi, seguono la nascita dell'oliverio bis. La scelta di totale discontinuità con il passato da parte del governatore non soddisfa neppure i suoi fedelissimi. Carlo Guccione pare sia parecchio risentito. Alcuni consiglieri regionali continuano ad agitare le acque. Tra i renziani, gli antimagorniani, vedi Gianluca Callico impegnato sul fronte vibonese ad alimentare la fronda contro il segretario regionale, non sono affatto contenti. Buon lavoro alla nuova giunta, ha detto ieri il sindaco di Pizzo, ma la politica arretra. Lo sconfitto delle primarie, con riferimento all'esecutivo appena varato, certo, non ha usato perifresi di sorta. Disegno opposto alle reazioni dei moderati vicini a Magorno e dell'ala della minoranza Dem schierata con il governatore. Basti pensare alle parole di Giubilo, di Nico Stumpo da una parte e Stefania Covello dall'altra. Magra consolazione per Oliverio, che deve fare già i conti con le minoranze che si rianimano dentro e fuori il centro-sinistra. Forza Italia e Movimento 5 Stelle parlano di una regione commissariata dal PD nazionale e dal Premier nella fattispecie. Muta l'atteggiamento del nuovo centro-destra e fino a ieri abbastanza condiscendente in assemblea. Credo che il presidente Oliverio, rimarca Tonino Gentile, abbia smarrito la strada della politica e dell'autonomia. E questo è un dato di fatto che pesa moltissimo sia per la sua coalizione che per la Calabria.